Lava i fagiolini e poi spuntali. Salute a tutti! I fagiolini sott'olio sono una conserva gustosa e facile da preparare, un modo per conservare i fagiolini al meglio e gustarli tutto l'anno. Si tratta di un ortaggio che troviamo tra la fine della primavera e l'estate, e che può essere consumato come antipasto o contorno. Per preparare i fagiolini sott'olio, basterà sbollentarli in acqua e aceto per alcuni minuti, lasciandoli però sodi e leggermente croccanti. Una volta raffreddati e ben scolati, saranno conservati in vasetti di vetro sterilizzati e coperti con olio extravergine d'oliva, aglio, peperoncino e alloro. Una volta pronti, serviteli per accompagnare pietanze di carne, pesce, formaggi o salumi. Se preferisci, puoi sostituire l'olio extravergine di oliva con l'olio di semi di girasole. Puoi aggiungere anche altre erbette aromatiche, come basilico, menta, timo limonato, origano, e profumare la conserva con qualche chiodo di garofano e dei grani di pepe nero o rosa. Scopri come preparare i fagiolini sott'olio seguendo passo passo procedimento e consigli. Se ti piacciono le conserve, ti consigliamo di preparare le melanzane sott'olio, le zucchine sott'olio. Trovi le videoricette sul canale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La parte più noiosa sarà proprio quella di mondare i fagiolini. Ma se lo farete in compagnia, tra una chiacchiera e l'altra, scommetto che il tempo vi passerà in un baleno. E se anche vi toccherà farlo da soli potete sempre approfittarne per vedere l'ultima puntata della vostra serie preferita. Una volta fatto quello, il resto del procedimento sarà facile e veloce. insomma, se anche voi volete premunirvi di un contorno diverso e saporito per l'inverno da tenere in dispensa, le tecniche di conservazione, però, come sempre sono molteplici. Potete, infatti, conservare i fagiolini sott'aceto, ad esempio. Con dei fagiolini in barattolo sarete sempre pronti per insalate o piatti ricchi di gusto in ogni periodo dell'anno. Amici, se vi è piaciuto il video, condividilo con chi ami, è bello per me e importante per lo sviluppo del canale. Non sarà difficile per te ma sarò molto felice. Iscriviti, attiva la campanella per essere informato sui nuovi video.